Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano la gestione dei costi delle spese per l'emergenza sanitaria. Qualcosa non torna e se ne discute in Commissione, bilancio del Consiglio regionale, chiesta l'audizione del Presidente Emiliano e del responsabile del regionale della protezione civile Mario Lerario. Tutti i dettagli nel servizio. Uno sbilancio da 194 milioni di euro, di cui 110 milioni attribuibili alla protezione civile. Un'altra cinquantina di milioni riferibili alle spese regolarmente rendi contate in prima battuta per un totale di circa 240 milioni di euro. E quanto sarebbe costata la gestione del Covid in Puglia durante quest'anno e mezzo di pandemia? Solo che per far quadrare i conti la regione Puglia ha dovuto attingere risorse proprie perché lo Stato non ha coperto una parte significativa delle somme, ricevendo molto meno di altre regioni del nord. L'ennesimo segno del divario con il meridione, verrebbe da dire, in realtà le cose sembrerebbero stare diversamente. Lo scorso maggio, quando veniva stabilito il riparto di mille milioni di euro in tutta Italia, la Puglia era tra le regioni che non presentavano al governo il rendiconto completo dei costi da coprire. E così le grandi strutture come l'ospedale in fiera, la fabbrica di mascherina e solo per citarne alcune delle voci più discusse, non sarebbero finite nel conteggio. Ecco perché il capogruppo di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, ha chiesto di audire il presidente Emiliano, assente e responsabile della protezione civile Mario Lerario, in commissione e bilancio del Consiglio regionale. La spesa per ragioni di tempistica, per ragioni di necessità, in qualche modo ha preceduto anche gli aspetti di definizione contabile e questo sulla base di interlocuzioni costanti, quotidiane, nell'ambito del cobitato operativo. I dubbi restano, tanto che la prossima settimana si proseguirà con le audizioni del direttore del Dipartimento della Salute Vito Montanaro, anche per dare conto della quota di parte sanitaria che non è di competenza della protezione civile. Nel frattempo per Zullo restano aperte questioni già più volte segnalate da inizio pandemia sulla gestione delle spese fatte per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Torna tutto in evidenza, tutto quello che noi abbiamo espresso in questa gestione della pandemia da parte di Emiliano, della sua giunta e del suo apparato. Una gestione della pandemia che è risultata essere con il più alto tasso di mortalità se noi confrontiamo la mortalità da settembre al giugno di quest'anno. E' proprio il Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, Fabiano Amati, si è espresso in merito al tipo di contagi che in questo momento si stanno registrando maggiormente. Sono 244 mila i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che è necessario vaccinare con doppia dose entro metà settembre. Non c'è un'ora da perdere perché ogni giorno in più di DAD sarebbe un crimine contro il loro futuro. Queste le parole di Amati. Se servisse non avrei esitazioni a presentare una proposta di legge sull'obbligo vaccinale. Poi ha proseguito. I test invalsi hanno confermato ciò che si poteva abbondantemente intuire. Ha aggiunto la DAD è una modalità di insegnamento e apprendimento che lascia indietro molti ragazzi. La pubblica amministrazione non può non tenerne conto. Invece parliamo del 29esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta questa mattina a Bari. Alla presenza del questore Giuseppe Bisogno e del comandante della Polizia Locale Michele Palumbo, l'assessore allo sviluppo economico Carla Palone, ha deposto una corona di fiori in Via Falcone Borsellino nel giardino dedicato ad Emanuela Loi, una degli angeli custodi del giudice Borsellino che a soli 25 anni perse la vita in quel tragico 19 luglio di 29 anni fa. Questo pomeriggio il sindaco Antonio De Caro alle 16.59, ora in cui esplose l'autobomba carica di Tritolo in Via D'Amelio, deporrà una corona di fiori sulla facciata esterna di Palazzo di Città. E' stata inaugurata invece questa mattina la panchina rossa sul lungomare contro la violenza sulle donne. I dettagli nel servizio di Maria Alessia Sforza. Una panchina rossa per ricordare tutte le vittime di violenze di genere ma soprattutto che invita a denunciare perché come recita la stessa targa fissa sulla panchina, non è mai troppo tardi, basta avere coraggio. E l'idea è nata dall'associazione Gensnova che ha l'obiettivo di trasmettere un messaggio attraverso un simbolo collocato proprio su lungomare di Bari, posto molto frequentato, per fornire un aiuto concreto alle donne vittime di violenza. La targa infatti riporta il numero di emergenza attivo ogni giorno, 24 ore su 24, per ricevere le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenze e di stalking. Sono perfettamente consapevole che non è con le panchine rosse che risolviamo il problema, ma la panchina rossa posizionata sul lungomare, credo sia l'unico lungomare d'Italia che abbia una panchina rossa, quindi luogo di grande passeggio, serve per far sì che chiunque passi, pure un secondo, guardi il color sangue e si ricorda della quantità di sangue che è stato versato in questi ultimi 10-15 anni in particolar modo. Parliamo di oltre 2000 vittime di femminicidio, tutte donne. Credo che dovrebbe far riflettere, io vorrei più che con questo simbolo ricordare far riflettere, un invito a far riflettere ogni tanto noi maschietti, che si può anche litigare, ci si può lasciare, è umano, succede a tante coppie, ma non per questo bisogna ricorrere alla violenza. E così da oggi, giorno in cui due anni fa entrava in vigore la legge sulla violenza sulle donne numero 69, codice rosso, il lungomare di Bari diventa un luogo simbolo con questa panchina tinta di rosso che deve ricordare a tutti ogni giorno, anche nella frenesia della vita quotidiana, della necessità di fermarsi, di non dimenticare e soprattutto deve ricordare che non bisogna accettare nessun atto violento. Sia dai giovanissimi, le giovanissime donne, che anche le donne più là con l'età, non devono avere paura anche nella denuncia, devono credere in un sistema giustizia che sarà sicuramente pronto ad arginare questo problema. Noi abbiamo interesse a continuare l'attività di sensibilizzazione a partire dal coinvolgimento di scuole, istituzioni e quindi delle famiglie. E ora gli aggiornamenti dal nostro sito web www.telebari.it Andiamo dal nostro Tiziano Tridente. Sì, eccoci Roberto, oggi raccontiamo una storia a lieto fine, quella del ritrovamento dell'83enne di Polignano, la cui scomparsa ieri pomeriggio ha tenuto col piatto sospeso l'intera comunità polignanese. L'anziano, privo di telefono, in stato confusionale, si era allontanato dalla propria abitazione di campagna, poco dopo mezzogiorno, facendo perdere le proprie tracce. Subito è stato attivato il piano provinciale delle persone scomparse con il coinvolgimento di carabinieri vigili del fuoco e protezione civile, unità cinofile, un elicottero e un drone. Le ricerche, proseguite ininterrottamente per tutta la notte, hanno consentito di ritrovare l'anziano nelle prime ore di questa mattina, disorientato, scalzo, ma in buone condizioni di salute. Era covacciato in un terreno orato a circa un chilometro da casa. Il nonnino così è stato prima affidato alle cure del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli. A te. Grazie Tiziano. E ora cambiamo completamente argomento perché si è tenuto ieri a Terra Nobile Meta Resort l'evento del calendario delle spose dedicato alle coppie di future spose. Vediamo com'è andata. Arriva in Puglia il calendario delle spose, lo fa con un evento tutto dedicato al mondo del wedding a Terra Nobile Meta Resort, location da sempre scelta e apprezzata da un gran numero di coppie di futuri sposi del barese, non solo. È un'occasione per far conoscere Terra Nobile e presentare la prossima apertura di Masterie Pietrasole che sarà nel prossimo settembre. Alle future coppie ma anche ai potetici clienti che vogliono comunque organizzare un evento. Abbiamo deciso di organizzare l'evento adesso il 18 luglio perché il nostro scatto rappresenta il mese di luglio. Una donna, una sposa coraggiosa, una Frida Kahlo. Mai come in questo periodo possiamo dire la sposa coraggiosa. In questi ultimi anni pandemici le spose sono state messe a dura prova, soprattutto la loro pazienza, oltre a noi, diciamo tutti i fornitori del settore. E così le future coppie a partire dalle 19 hanno potuto visionare gli espositori di settore che hanno offerto loro importanti promozioni per il grande giorno. Il nostro primo evento dell'anno è il caso voluto che iniziamo proprio dalla Puglia. Per quanto riguarda invece Terra Nobile e Meta Resort già avremmo dovuto farlo negli anni passati però a causa Covid non siamo riusciti a fare questo evento e oggi siamo contenti in questa giornata di sole di poterlo effettuare qua. La struttura di Terra Nobile è stata anche il palcoscenico di un vero e proprio fashion show a sfilare gli abiti dell'atelier di Maria Elena di Terlizzi. Sono abiti ampi, molto luminosi, con questi tessuti lurex iridescenti, con delle applicazioni di fiori tridimensionali, anche dei ricami fatti interamente a mano. In questo in particolare ci sono delle libellule che rappresentano proprio la libertà che abbiamo tanto atteso e che tutti desideriamo. Un grande evento simbolo della ripartenza dell'intero settore dopo mesi di stop e adesso ci si prepara gli scatti del prossimo calendario. In realtà noi individueremo una ragazza per poter in qualche modo essere la protagonista del prossimo calendario delle spose, Puglia. Allora il tema è Regina Sposa, lo scatto che abbiamo organizzato quest'oggi è incentrato un po' sul bouquet, sul lancio del bouquet, su una sposa un po' bohemian, ecco diciamo così, con toni caldi. Quindi andremo a realizzare questo scatto proprio all'orario del tramonto in modo da enfatizzare questo tipo di colori, di tonalità. E ora parliamo di un altro evento, il Mania Grecia Awards and Fest 2021 che ha fatto tappa ieri sera a Gioia del Colle in festival itinerante ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore. Prosegue il suo viaggio itinerante il Mania Grecia Awards and Fest 2021 che ieri ha fatto tappa a Gioia del Colle, una serata ricca di tanti ospiti illustri in un susseguirsi di incontri culturali e letterari. Un proseguo della serata di premiazione dello scorso 25 giugno sul Sagrato della Basilica di San Nicola Bari all'insegna della celebrazione della bellezza e della ricchezza dell'umanità, ma soprattutto un inno al ritorno alla vita. Dopo l'inaugurazione di questo festival che è partito dalla città di Bari con tanti ospiti nazionali e internazionali è stata una bella esperienza e adesso i dibattiti arrivano nei comuni dell'area metropolitana di Bari e della provincia di Taranto. Questa volta ci siamo spostati in qualche modo, Bari è stata la protagonista e poi tutte le altre città hanno aderito a questo premio, un premio itinerante, un modo per scambiare opinioni, parlarne per stare insieme, soprattutto dopo quest'anno e mezzo ci voleva, quindi vanno bene queste manifestazioni ed è bello ritrovarsi tutti insieme. Prossima tappa del festival itinerante ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, questa sera a Palagiano. E ora è arrivato il momento della pagina sportiva, ci colleghiamo con i nostri Christian Siciliani e Barbara Cirillo, ecco veniamo da voi. Sì, buon pomeriggio Roberto, siamo qui sul campo dello Stadio Grilli dove è terminato da pochi minuti l'allenamento del Bari, il primo allenamento del Bari sotto la guida di Michele Mignani che ha voluto fare un discorso alla squadra, 5 minuti di chiacchiera con i suoi ragazzi prima poi di scendere in campo per la parte sia atletica che tattica. Christian? Eh sì, poi da buon ex difensore ha prima lavorato con la linea difensiva e poi si è concentrato su centrocampo e attacco, soprattutto sulla qualità e sulla pulizia del passaggio con schemi dedicati, soprattutto verticalizzazione del centrocampista per la punta, scarico al trequartista per poi far calciare l'altro attaccante. Questo è stato uno degli schemi degli allenamenti di giornata, sugli scudi soprattutto Simone Simeri, l'abbiamo visto molto carico, galvanizzato, tanta cattiveria nel calciare in porta e poi la qualità dell'acquisto del Bari top in questo momento Andrea De Rico. Eh sì, perché questo è stato il primo allenamento in bianco-rosso per De Rico ma anche per che dire, l'ufficializzazione è arrivata proprio ieri nel pomeriggio prima dell'arrivo del Bari e non escluso che possano esserci novità entro la giornata di oggi perché entro stasera potrebbe essere anche ufficializzato lo scambio con il Pisa tra Berra che non è presente qui in ritiro e Belli e potrebbe arrivare anche il presidente Luigi De Laurentiis qui a Storo insieme al DS Ciropolito, anche lui non presente da ieri. Sì Barbara, dicevi bene, scambio col Pisa, Berra, Belli, a titolo definitivo entrambi Belli dovrebbe firmare un contratto di due anni e raggiungerà la squadra qui in ritiro nelle prossime ore, subito dopo l'ufficialità, però ormai ci siamo, scambio ruolo per ruolo, terzino destro per terzino destro, sempre per quanto riguarda il reparto difensivo invece si potrebbe chiudere con Mazzotta, lui un terzino sinistro, svincolato, nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Crotone, questo per quanto riguarda al momento il mercato in entrata poi ci sarà tanto, tantissimo da fare soprattutto in uscita, tanti calciatori qui in ritiro che non faranno parte del nuovo progetto tecnico. Tantissimo da fare per il Bari, tantissimo da raccontare per noi perché continueremo ovviamente ad aggiornarvi sulle nostre pagine Facebook, su quella di Radio Bari in particolare e torneremo questo pomeriggio in diretta per mostrarvi ancora gli allenamenti pomeridiani e poi stasera si parte ufficialmente con il nuovo format. Sì, si parte con il nuovo format, 20 e 30, 21 e 30, un'ora ricca davvero di tante cose con Enzo Tamborra in conduzione da studio, noi da qui con tantissime novità, poi un tesserato ai nostri microfoni, giusto per completezza di notizia dobbiamo dire anche chi non ha partecipato all'estituto odierna mattutina perché non si è allenato Daniele Celiento, in realtà non è partito con la squadra a Storo, sta svolgendo un lavoro dedicato a Bari per recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha penalizzato durante tutta la passata stagione e poi per rotta invece ha svolto di fatto solo terapie e una breve seduta in palestra, questo per gli assenti oltre chiaramente all'infortunato di lungo corso Andreoni. Occhio ai nostri social perché vi continueremo ad aggiornare anche sulle ultime di mercato e vi sveleremo anche nel pomeriggio. Chissà, il nome del tesserato che sarà presente questa sera con noi a partire dalle 20 e 30 con gioco di squadra, il nuovo format condotto da Enzo Tamborra, collegamenti di cui insomma non vi faremo mancare sorprese. Per ora davvero è tutto, Roberto, linea allo studio. Giusto per far vedere che teniamo le questioni di genere, ora invece le notizie che ci arrivano dall'area metropolitana. Andiamo a Gravina dove il sindaco tranquillizza e richiama l'attenzione nella cittadinanza in questi giorni in cui si torna a parlare di Covid, il punto nel servizio di Michele De Nora. Ci aspettavamo che l'estate bloccasse l'aumento dei contagi, così esordisce il sindaco di Gravina Alessio Valente. Infatti, mentre il trend dei contagi nazionali cambia verso segnando un silenzioso aumento, la comunità gravinese torna a preoccuparsi. Massima attenzione e prudenza, sottolinea il sindaco, che aggiorna i cittadini sui dati attuali. ...i numeri per essere precisi e trasparenti come sempre. Nella nostra città i dati li accorpiamo per settimane, perché naturalmente sono piccoli, diciamo, sono fortunatamente pochi i casi di contagio. Abbiamo avuto otto casi, abbiamo registrato otto nuovi casi nella terz'ultima settimana, quattro nuovi casi nella penultima settimana e cinque nuovi casi nell'ultima settimana. È necessario dunque proseguire speditamente con la campagna vaccinale ed evitare allarmismi e panico causato da fake news e social media. Voi immaginate che già sono quasi 18 mila i cittadini gravinesi che hanno avuto tutte e due le dosi e quindi che hanno avuto la doppia dose del vaccino. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione di Telebari però prosegue sui nostri cannelli social e sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da GL Industries Since 1965 we serve solutions Ben trovati da Nico Schiodetto. Previsione per martedì con l'anticiclone ancora posizionato molto a nord con i suoi massimi proprio sulle isole britanniche, Francia, Paesi Bassi e Nord Germania. Invece blanda zona di bassa pressione tra Sud Italia e i Balcani. Ancora possibile qualche breve spunto temporalesco. Nel dettaglio possiamo osservare di fatto una giornata di bel tempo su gran parte della nostra penisola il sole che tornerà a splendere anche sulle località di mare con caldo massime ovunque oltre i 28-30 gradi al mare addirittura pianura interna e Toscana tocchiamo i 33-35 gradi. I temporali pomeridiani possibile all'estremo sud soprattutto lungo l'Appennino meridionale. Ma tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'App di Trebi Meteo. Il Meteo è offerto da GLA Industries Since 1965 we serve solutions.